se credi in dio forse questo sogno è anche tuo vedere realmente uniti diversi carismi della chiesa cattolica in concerti eventi e incontri dove religiosi laici movimenti famiglie artisti e associazioni cooperano per testimoniare come dio agisce oggi nel mondo trasmettere la passione della gioia della fede ed evangelizzare le nuove generazioni sicuramente questo è quello che siamo chiamati noi a fare oggi e per rispondere a questa chiamata abbiamo ideato asking for faith un tour pellegrinaggio che unisce musica preghiera ed evangelizzazione partiremo per una serie di concerti testimonianze eventi in tutto il mondo in collaborazione con realtà missionere cattoliche per aiutarsi nelle proprie città a raccontare dio a chi lo sta cercando e a chi non sa che quello che sta cercando è dio noi siamo asking for faith grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti